Dati in calo per le donazioni di sangue in Toscana, l'assessore alla salute Saccardi lancia l'allarme. Sentiamo. La Toscana è il suo debito di sangue. Con l'arrivo dell'estate cresce il fabbisogno di amoderivati, sia perché la popolazione aumenta per l'arrivo di migliaia di turisti, sia perché i donatori toscani partono per altri luoghi di vacanza. L'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi ha dato il buon esempio con una donazione al centro trasfusionale del Maier. Per aumentare il numero di donatori, la regione ha recentemente promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone tra i 18 e i 70 anni, ma soprattutto... Nei confronti dei giovani, utilizzando l'immagine degli idoli dei giovani, gli eroi e gli atleti delle loro squadre. Quindi abbiamo fatto partire una campagna di comunicazione che gira sulle strade attraverso cartelloni dove sono impiegati i grandi campioni dello sport e si sono messi a disposizione, devo dire, immediatamente. In media dona il sangue un cittadino su dieci, una percentuale che rende la Toscana vicina all'autosufficienza. Ma nel 2016 le donazioni sono in lieve calo e nei primi quattro mesi dell'anno ne sono state fatte 72.000, circa mille in meno rispetto allo stesso periodo del 2015.